Tra Sondrio e il Passo dello Stelvio, il fiume Adda scava una valle che separa le Alpi Oretiche dalle Alpi Orobie. È la Valtellina, una zona di confine il cui popolo ha imparato a ottenere da un terreno aspro, difficile e impervio, frutti unici che hanno nutrito nei secoli intere generazioni. Oggi queste cime verdi sono ricoperte di boschi, ma un tempo avevano i colori cangianti delle terre coltivate. Per poter lavorare il suolo, i primi insediamenti umani dovettero ricorrere ai terrazzamenti edificati a secco, un'invenzione dell'antico popolo dei Liguri, che furono anche responsabili delle coltivazioni di vitigno nebbiolo, ancora oggi uno dei più diffusi in quest'area.